Andiamo avanti un pochino e prendiamo l'altro argomento che mi ero riservato per stasera. Perché mi ero riservato quell'argomento? Perché l'altra volta parlando di quello che fa animo universale, citava quattro personaggi che erano berranti. Uno di questi quattro personaggi è Storm Martin Luther King. Allora, un'amica mi aveva telefonato e mi ha detto, ma dimmi qualcosa di Malcolm X, eccetera. Perché le due cose, Malcolm X e Martin Luther King, erano opposto? Chiaramente facevano la politica, facevano delle cose, però era il senso della vita. A noi non è che ci interessa questo o quel partito, o questa o quella impostazione politica. Ci interessa il senso della vita, ci interessa come l'essere umano si pone davanti alla vita. Allora, di Malcolm X vi leggo un discorso che ha fatto Malcolm X a Selma, in Alabama, il 4 febbraio 1965. Allora, il discorso era «Sono un negro dei campi». Ed è una cosa che analogamente lo potete prendere anche in questa trasmissione. Cioè, quelli che telefonano, quelli che telefonano insultando, quelli che telefonano a dire «tu ci stai insultando, tu fai questo, tu fai quello», li potete ritrovare anche in questo discorso. «Prima di sedermi, devo dire questo. Nel passato, durante la schiavitù, quando la gente come me parlava agli schiavi, i bianchi non la uccidevano, le mandavano dietro qualche vecchio negro di casa per disfare quello che aveva detto. Per capire questo, bisogna leggere la storia della schiavitù». Allora c'erano due tipi di negri, il vecchio negro di casa e il negro dei campi. Il negro di casa faceva sempre la guardia per il suo padrone. Quando i negri dei campi alciavano la testa, li teneva a freno, li riportava alla piantagione. Il negro di casa poteva permettersi di comportarsi così perché viveva meglio del negro dei campi, mangiava meglio, vestiva meglio e viveva in un'abitazione migliore. Viveva tutto vicino al padrone, nella soffitta o nel seminterrato. Mangiava il cibo del padrone e indossava i suoi stessi abiti. Il negro di casa poteva parlare come il padrone, aveva una buona dizione. Amava il padrone più di quando il padrone amasse se stesso. Per questo non voleva che al padrone capitasse qualcosa. Se al padrone capitava qualcosa, diceva Cosa c'è padrone? Siamo malati? La casa del padrone prendeva fuoco. Se la casa del padrone prendeva fuoco, cercava di spegnere l'incendio. Non voleva che la casa del padrone bruciasse. Non voleva che la proprietà del padrone fosse minacciata. Era più pronto del padrone a difenderla. Ecco cos'era il negro di casa. C'erano poi i negri dei campi, che vivevano in Tuguri e non avevano nulla da perdere. Vestivano nel modo peggiore, mangiavano il cibo peggiore. La loro vita era un inferno. Subivano il tormento della frusta e odiavano questa terra. Sapete che cosa facevano? Se il padrone si ammalava, pregavano che morisse. Se la casa del padrone prendeva fuoco, pregavano perché arrivasse un vento impetuoso. Questa era la differenza tra il negro di casa e il negro dei campi. E oggi ci sono ancora i negri di casa e i negri dei campi. Io sono un negro dei campi. Se non posso vivere in una casa, come un essere umano, prego perché arrivi il vento. Se il padrone non mi tratta giustamente e si ammala, mando il medico in un'altra direzione. Ma se noi tutti potremmo vivere come esseri umani, allora sono per la società di esseri umani, che riesca a mettere in pratica la fratellanza. Prima di sedermi, voglio ringraziarvi per avermi ascoltato. Spero di non aver messo nessuno in difficoltà. Non voglio cercare di eccitarvi per farvi fare qualcosa che non avreste mai fatto. Prego Dio che benedica ogni vostra attività. Prego perché cresciate intellettualmente in modo da poter capire i problemi mondiali e la collocazione migliore per voi in questo mondo. Prego che il vostro cuore si liberi dalla paura di cui oggi è pieno. Quando capirete che quest'uomo bianco non è nulla che un vile, non avrete più paura di lui. Se non fosse un vile, non si metterebbe in una banda con altri per darvi addosso. Questo è il loro modo di agire. Si riuniscono in bande ed è da vili. Si coprono con un lenzuolo per non farsi riconoscere. E questo è da vili. Verrà il tempo in cui quel lenzuolo sarà strappato via? Se non lo farà il governo federale, lo strapperemo via noi. Grazie. Selma, Alabama, 4 febbraio 1965. Questo è un discorso di giustizia. Malcolm X non voleva il potere per sé. Non voleva portare via qualcosa degli altri. Voleva semplicemente l'applicazione oggettiva delle leggi. L'applicazione oggettiva delle leggi non era permessa dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Anche se lui prega Dio è un'altra forma. Ebbene, questo era Maiconi. Cioè la ricerca della giustizia oggettiva. Cioè una giustizia che sia oggettiva e che venga applicata in maniera oggettiva. quando è che si fa ingiustizia? Non solo quando la legge è ingiusta. Quando la legge è ingiusta si può cambiare la legge, si può fare pressioni per modificare la legge. L'ingiustizia non nasce da una legge giusta o ingiusta. Le leggi, ripeto, si possono modificare. Ogni nazione ha i suoi meccanismi per modificare le leggi. Qualche meccanismo è più semplice, qualche meccanismo è più difficile. L'ingiustizia nasce dalla soggettività nell'applicazione della legge. Nasce quando qualcuno si ritiene Dio, si ritiene padrone e dice all'altro io applico la legge come voglio io perché qui comando io. Ecco, in questo momento c'è l'ingiustizia. L'ingiustizia è farsi ad immagine e somiglianza del macellaio di Sodoma e Gomorra. E vediamo cosa c'entra Martin Luther King in tutto questo. Vi ricordo che il partito fondato da Malcolm X era il... Vediamo un attimo perché non ricordo neanche più. Ormai è passato tanti di quegli anni. Sono passati tanti di quegli anni. Era il NAP, mi sembrava. Non ricordo neanche più il significato. Il NACP, N-A-A-C-P. E niente, vediamo un attimino cosa c'entra Malcolm X, Martin Luther King con tutto questo. C'è un altro militante nero insieme a Malcolm X ed è Robert Williams. Robert Williams, anche lui, è costretto a scappare all'estero per delle accuse e si trova sempre negli stati del sud. Vediamo un attimino. La storia ha provato che Williams aveva ragione. Tanto nel sud che nel nord dei Stati Uniti i bianchi hanno impiegato ogni sorta di violenza contro i manifestanti neri, dai cani poliziotti alle armi automatiche, abbattendoli apertamente senza pietà o pagando sicari per assassinare ogni leader afroamericano che usava sfidarli, da Malcolm X allo stesso Martin Luther King e numeri altri militanti neri meno conosciuti da un capo all'altro dei Stati Uniti. Gli otto anni di esilio di Williams ebbero inizio nel 1961, quando James Forman, a quel tempo associato a Luther King, fu inviato a Monroe, nella Carolina del Nord, con l'incarico di provare a Williams e i suoi seguaci l'efficacia delle manifestazioni non violente. La piccola cittadina era stata uno dei centri di attività del Kus Kluklan, sino al giorno in cui Williams vi aveva fondato una delle più impegnate sezioni della NAACP, centrata su una politica di autodifesa armata contro le incursioni notturne degli uomini e dei clown. Quando i razzisti seppero che Williams non avrebbe partecipato alle manifestazioni indette da Forman, scatenarono una violenta campagna di intimidazione contro i manifestanti non violenti. Molti di loro furono arrestati e si sparse la voce di una comunità nera che i bianchi si preparavano ad iniziare i prigionieri. Praticamente cosa faceva questo Martin Luther King? Diceva alla gente, voi non dovete stare sotto messa. E Martin Luther King era un prete battista, cioè era un prete cristiano. Un prete cristiano, di qualunque confessione protestante sia, gli interessa solo che le persone stiano in ginocchio. Vi ricordo a proposito che è in corso una grossa polemica negli Stati Uniti perché proprio i battisti stanno rivedendo la loro posizione sulla donna proprio per costringerla a condizioni peggiori in quella che esiste. Allora noi abbiamo due impostazioni fondamentali. Uno è la richiesta di giustizia, cioè la giustizia come elemento giuridicamente oggettivo sia nell'applicazione, sia nella manifestazione, cioè sia come legge, sia nell'applicazione della legge che deve essere alla base di un sistema sociale. Si può criticare la legge che sia migliore o peggiore però è importante che la legge sia un dato oggettivo. Non si può applicare la legge a chi non si può difendere magari essere clementi con un ricco. Questo è ingiustizia, è obiettivamente ingiustizia. Se voi andate a un magistrato e gli dice tu applichi ferocemente la legge con un povero mentre la applichi più benevolmente con un ricco vi scanna perché questo è il più grande insulto, il più grande insulto è il più grande mancanza. Insulto se è gratuito, mancanza se invece è una cosa che si basa su dati reali, che può fare un magistrato. Cioè il maggior reatto che può fare un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni in questo momento è quello di applicare la legge in modo diverso da classe sociale a classe sociale. Vabbè, poi c'è una gravata in cui usare la legge per i propri affari, però la cosa più grave che può fare un magistrato in questo momento, in questo paese, è quello di applicare la legge in maniera diversa da una persona a una persona. È un attentato alla Costituzione. Pertanto i magistrati cercano, nei limiti del possibile, nei limiti delle condizioni, dopodiché ci sono altre cose, ci sono tante cose da discutere, di applicare la legge in modo uguale. Ora, l'applicazione oggettiva della legge per tutte le persone è un dato fondamentale, è un aspetto della giustizia. E qui è inderogabile. Per cui non discuteremo nemmeno quando si parla di applicare la legge in un modo o in un altro. Martin Luther King fu uno che si è prestato a distruggere proprio i movimenti di giustizia, cioè a distruggere tutti quei movimenti che chiedevano l'applicazione della legge in maniera oggettiva. La legge per Martin Luther King andava applicata in maniera soggettiva. Lui era convinto, forse anche in buona fede, cioè io non gli nego la buona fede a questo punto di vista, che le manifestazioni pacifiche potessero portare a un cambiamento del sistema sociale statunitense. In realtà questo non fu vero, non è vero oggi, ed è vero invece che il suo modo di fare, il suo modo di essere, ha permesso alla CIA e a tutti gli altri che avevano un po' paura di sta gente, che magari potevano anche mettersi a sparare, specialmente quando le rivolte erano dure, hanno permesso a loro di imbottire i quartieri neri di eroina. E Martin Luther King ha la sua responsabilità, sia che l'abbia fatto coscientemente, sia che l'abbia fatto inconsciamente, sia che l'abbia fatto in buona fede, sia che l'abbia fatto in mala fede, non ha nessuna importanza, sia che l'abbia fatto lui o che l'abbia fatto un suo collaboratore. Questo è irrilevante, è assolutamente irrilevante. Il problema è questo, quando si sposa una dottrina che mette in ginocchio le persone, che dice alle persone tu devi essere uguale, ma in ginocchio davanti a me. Bene, questa dottrina è responsabile di tutte le malvagità che comporta. Adesso andiamoci avanti, visto che non arrivano i fiori, e visto che oggi mi sono fatto un pochino arrabbiato, mi sono arrabbiato da chi? Mi sono arrabbiato da quella persona che andava in giro dicendo che io insulto qualcuno quando questo non è vero. Allora, visto che io non insulto nessuno, l'ho promesso a qualcuno di cercare di lasciar perdere, ma vedo che vengono sempre presi un po' per i capelli. Cioè, quando si è disponibili si viene un po' presi un po' per deboli. I cristiani non hanno molto capito questo discorso. Vediamo un po'. Pronto? Sì? Ah, ecco, senti, sono Paola. Ciao. Volevo chiederti se posso telefonarti quando finisce la trasmissione, perché io ti ho sentito per caso stamattina per la prima volta. Avevo appena finito di leggere te in segretà, e quindi proprio mi sono addirittura ti ho registrato. Guarda che io non ho letto te in segretà, stai sbagliando con un'altra trasmissione. Non è quella di stamattina? No. Io non ho letto. Io faccio la visione di questa donazione per la mia pagana. Poi io sono anche contrario a te in segretà di Castaneda. Cioè, sono un castanediano, diciamo così, nel senso che ho studiato Castaneda. Ma te in segretà non è una delle cose che non mi piacciono. Appunto. Io, siccome ho sentito che stamattina parlavi, volevo sapere, prima di tutto, come è il testo? Dimmi. Come fai? Avrei sentito che io parlavo di te in segretà? No. No. No, no. Sento che parlavi dell'agguato. Ah, sì. Oggi pomeriggio, sì, sì, sì. Oggi pomeriggio ho parlato dell'agguato, sì. Allora, ti posso telefonare quando finisce la trasmissione? Sì, certo. Certo. Ma io non so quando arriveranno, adesso ho sentito la stigione di figura. Vabbè, ora facendo, riacciando la radio, sento, appena sento che tu dici che finisci, ti richiamo. D'accordo, io sto faccio dire... Di cosa? Su te in segretà. Sì, ma infatti è una sconfitta, è una sconfitta di Castaneda questa. È la sua sconfitta nel suo cammino di stragonaria. Ok, ok, beh, perfetto. E ne facciamo. D'accordo, bene. Mi piace. No, è proprio il figlio. Ciao, ciao, ciao. Allora, siccome è disponibile a nuova, vediamo un attimino questo discorso anche, vabbè, dopo ne parlerò in privato con la radioascoltatrice. Il problema di Castaneda è questo. Io non so bene se sia stato un gioco per lasciare tutto là o per dire beh, sai in fondo chi ha capito ha capito gli altri gli altri gli diamo ten segretà gli diamo un po' di ginnastica tipo yoga tipo resta. Però già sull'arte del sognare mi aveva lasciato perplesso. Cioè, già sull'arte del sognare avevo un po' distrutto. Quelle erano le prerogative del sognare. Gli altri invece tutto sommato non mi ricordo molto bene il potere del silenzio però gli altri invece era ancora c'era già la soggettività che prendeva il sopravvento sulla sulla percezione oggettiva. Cioè quando un apprendista stregone mette l'accento sugli effetti cioè su quello che vede anziché sul proprio cammino per arrivare a vedere lascia sempre un po' dubbiosi. Pronto? Buonasera. Buonasera. Dopo molte puntate sono intervenuto qualche volta per fare delle domande quindi non pretendo naturalmente una risposta adesso a fine a fine trammissione. Ho sentito questa sera però per la prima volta quella del patto di Nazareth lo dice per un motivo preciso non so in che senso via questa espressione lo dico la mia domanda la faccio anche da cattolico che non è praticante è cattolico per modo di dire e comunque se uno mi domanda se sono cattolico dico che sono cattolico. Allora io ho già questa storia qua sta andando avanti in un sacco di tempo cioè io ho fatto tutto un lavoro di analisi dei Vangeli da cui si desume che questo povero dei Vangeli ufficiali questo Gesù di Nazareth era un povero pazzo se vuoi ti do anche dei passi velocemente però qua non ce li ho sotto mano sì per carità naturalmente ho fatto quella premessa cioè praticamente se tu ti leggi non so durante il processo se non mi ricordo di quale evangelista gli dici al giudice tu mi vedrai a me venire sulle lungole a destra di mio padre allora tu arriverò in potenza questo per me è solo un povero pazzo capisci dopodiché se uno è convinto che questo fosse il figlio del Dio creatore e chiaramente gli dice a me che è un idiocia no no ma ci estriamo da questo cioè uno un cattolico gli sente nominare Gesù Cristo lo pensa fondatore della chiesa certo ecco sente questa espressione non dico lei mi concederà ma comunque dico viene naturale un'espressione per esempio non so c'è certi atti lei ha fatto riferimento a visioni la lettura apocalittica per esempio del nuovo fine del nuovo dell'antico testamento il testamento era una cosa corrente a quei tempi per esempio Simo Mago visioni cose extra naturali erano correnti ma per esempio lei attribuisce l'apazia anche a Ratti o solamente a questo soggetto che si chiama Gesù solo a questo soggetto per tutto il male che ha generato cioè rispetto agli esseri umani cioè questo soggetto particolare e solo nella descrizione dei quattro Vangeli ufficiali perché quando andiamo alla descrizione sugli gnostici no? che usano anche loro alcuni aspetti del di Gesù non ci usano il termine Gesù allora ho un altro atteggiamento ma cioè una vita specchiata studiata da duemila anni no no non è specchiata è una cosa una porcheria ma guarda che se vuoi in qualsiasi momento io sono disponibile a pigliare i Vangeli in mano io ho scritto già un libro di un milione rotti di caratteri analizzando i Vangeli ed è una cosa veramente a proprio cioè se i missionari ammazzavano un esempio per esempio non so non è che io le chi racconto adesso ma dico un esempio a parte quello che lei ha detto non so non so l'episodio del fico cioè la cacciata la cacciata dal tempio la cacciata dei mercati al tempio è una cosa odiosa una cosa ma cioè quello per chi interpreta fare le eseggezioni anche minima anche un regno donatello come me è la simonia cacciare la simonia dal tempo gli affari dal tempio ma parte il fatto che non è vera la tua interpretazione perché la chiesa cattolica ha sempre fatto simonia per cui la tua interpretazione è solo personale ha sempre fatto simonia cioè quando non so ma chi quando vende le indulgenze fa simonia cioè ci sono stati anche i protestanti le simonie sono situate nel tempio la chiesa comunista ha fatto 250 comunque il tempio il tempio è un centro sociale della città dire pari mia e tu ti metti in ginocchio perché qua che se ne pare significa privare la città dell'uso del tempio io penso che lei voglia scherzare perché cioè il velo del tempio ogni tempio antico era un luogo di ritrovo era un luogo civile era un luogo di commercio era un luogo di idee era un luogo di discussione cacciare via la gente del tempio significa dire quella roba mia adesso però devo chiudere la trasmissione grazie buonasera allora io devo chiudere la trasmissione e vi ricordo che io sono sempre disponibile a discutere anche con questo signore se lui vuole ritelefonarmi giovedì prossimo a discutere in questi toni mi va benissimo cioè lui presenta le sue cose e io gli ribadisco le mie chiaramente per me è una questione sempre di vita per cui sarò sempre pronto a ribadire però va benissimo questo tipo di questo tipo di confronto per quanto riguarda Gesù di Nazareth io non dico solo che è pazzo ma ho trovato anche alcuni riferimenti che vanno a giustificare i comportamenti pederasti dei 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 sacerdoti del tipo il vescovo di Vienna o tipo tutti gli altri e inoltre non è soltanto i riferimenti al matto che ne ho alcune decine ne ho tante altre che posso rifiutare comunque io ho già scritto un libro ne sto già scrivendo un altro sto già lavorando per altre cose sempre scusate pronto? io penso che penso che tu sia un pazzo a dire certe cose è una cosa pazzesca questi argomenti trattati in questa maniera superficiale va bene? mi vergogno che ci sono certe che ci siano delle persone in giro per lì ciao ciao sì in effetti per un credente chiaramente io sono superficiale però i ferri roventi con cui sono state bruciate le persone questo è ordine del Dio dei cristiani per cui non diciamo cazzate per piacere la vita è importante la vita la vita bene qui vi ringrazio e qui chiudo la trasmissione in ogni caso non c'è problema io sono disponibile per confrontarmi con chiunque però è la vita che è importante le persone hanno la loro immagine del Gesù hanno la loro immagine del Dio so benissimo che io cozzo dentro la struttura emozionale dentro le perversioni che i cristiani hanno compiuto sui bambini lo so benissimo che l'idea del Dio buono è stata instillata con una siringa al bambino piccolissimo lo so perfettamente questo e lo so perfettamente che mille dimostrazioni voi mi troverete centomila cose per dirmi no non è vero ma questo si può interpretare in questo modo ma sono seghe perché sono seghe perché è la vita che è importante è la vita è come 1600 anni di cristianesimo hanno praticato quegli insegnamenti quello è il metro di misura tutti gli altri sono cose soggettive dopodiché per un cattolico praticante io sono una persona demente chiaramente questo perché un cattolico praticante che si vede togliere dalle mani la possibilità di stuprare chi non si può difendere per lui questa è un'offesa questa è un'offesa ma è la sua testa che la fa un'offesa non il vivere civile non la pratica degli esseri umani perché se voi ti la fosse stata una persona onesta fra virgolette come può essere onesto un papa può essere onesto se l'abbiamo andato al vescovo di Vienna e agli altri predi che praticano una prediastia li avrebbe cacciati dalla chiesa ma lui sa benissimo che gli insegnamenti a Gesù di Nazareth incitano a questi comportamenti e giustificano questi comportamenti perché? perché tutti devono essere in ginocchio davanti al vescovo perché il vescovo è demandato da Dio il papa è demandato da Dio per cui esiste un diritto di fatto in questo tipo di pratiche questa è la disonestà la disonestà è nella vita qui chiudo e vi ringrazio di avermi ascoltato ci vediamo giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo vi ricordo che io sono Claudio Simeoni il mio indirizzo è piazzale parmesan 8 Marghera su elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni via delle Vignole perché ho appena cambiato casa vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è casella postale 53 Marostica a Vicenza vi ricordo che sono disponibili i libri di quello che sto dicendo e di quello che sto leggendo e che chiunque può averli senza nessun problema è chiaro che me li faccio me li scrivo me li fotocomo me li faccio io non ci guadagno una lira ci rimetto un casino di soldi come ci rimetto a venire qui in trasmissioni però la vita mi impone di fare questo e io questo finché la vita mi impone continuerò a rispettare la vita la vita la vita non il padrone la vita grazie per avermi ascoltato trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo a risentirsi a giovedì prossimo alle ore 15 e chi?